Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Oggi vi faccio vedere il mio libro che mi piace molto che disegno sempre E' un libro che contiene disegni di auto, moto Quindi vi faccio vedere le mie pitture Poi ho iniziato ma non ho fatto niente Ecco, poi ho fatto questa macchina Ho disegnato tutto perfettissimo Ho iniziato a disegnare Non ho finito Ah, perché l'ho disegnato qua di tutta il mio capo? Il sedile, l'altro sedile Allora, mi fa quello lì Verde e chiaro? Ecco qua, qua qua Ok Poi dopo mi serve il giallo Giallo, giallo, giallo Ciao fakio Assoco in the blue, I've finished with a little rocket. E ecco la mia moto Bellissima E adesso coloriamo il camion della spazzatura Bellissima Coloriamo un collo azzurro Coloriamo un collo azzurro Coloriamo un collo azzurro Coloriamo il collo azzurro Coloriamo il collo azzurro делiamo un collo azzurro Coloriamo un collo azzurro Coloriamo il collo azzurro Facciamo rossa! Manca il blu! Facciamo rossa! Ho finito il camion! Ciao ragazzi! Ci vediamo con il prossimo video! E mettete un milione di pollicioni! Ciao ciao! 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 Ciao!